Buonasera a tutti e benvenuti. È venerdì, argomento leggero, terza guerra mondiale, Cina e via. In realtà, ecco, lo dico sorridendo, ecco, con serenità, non è la mia una teoria, un cospirazionismo, uno scenario apocalittico, una visione di signori occulti, di poteri occulti e di vicende quasi legate alla fantascienza, ma mi riporto a scritti di quotidiani internazionali, di quotidiani nazionali, di organi militari, dipartimenti importanti internazionali, che in un certo senso vedono una preparazione avanzata, diciamo, della Cina per una eventuale guerra mondiale, questa volta basata sull'attacco batteriologico. Attacco batteriologico perché voi potete pensare benissimo che in uno scenario apocalittico di terza guerra mondiale non sono certo le armi nucleari a risolvere la questione, perché le armi nucleari distruggerebbero territori, città, milioni di persone e in un certo senso renderebbero inutilizzabili quei territori. Ricordate Cernobil, avete appena visto anche il risveglio adesso di un rettore, quindi lo scenario apocalittico del futuro non sarà lo scambio di missili balistici nucleari, ma piuttosto l'attacco con armi batteriologiche, biologiche, uguale virus che azzererebbero, annienterebbero, ridurrebbero deficitarie le popolazioni lasciando intatte le civiltà, gli edifici, le città, le industrie e tutti quelli che sono i sistemi nevralgici. Quindi questo senza entrare nella geopolitica sicuramente potrebbe essere uno scenario apocalittico ragionevole rispetto alle guerre mondiali e quindi alle bombe atomiche e rispetto ai gas di ricordo della prima guerra mondiale, ma anche recentemente per quelli che sono stati gli scenari in Medio Oriente. Quindi la guerra batteriologica e il tempo, il messaggero, il fatto quotidiano, diverse testate nazionali, l'Australian con delle rivelazioni su un dossier prodotto dall'esercito popolare cinese parla di scienziati, di malattie, di studio, di virus da diffondere in preparazione da circa sei anni. Già Trump accusava già nel settembre 2020 la Cina di questi movimenti preparatori, vorrei dirlo veramente con scaramanzia ovviamente preparatori a conflitti mondiali e anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite veniva coinvolta insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità in che cosa? Non ovviamente in uno scenario apocalittico da terza guerra mondiale, ma nella ricerca, nelle valutazioni, nella genesi di quello che è stato il virus che tutti noi stiamo ancora sopportando da due anni scaturito, si è detto, in Cina, Wuhan, non tanto dal pipistrello o dall'animale morto e infettato, quanto da possibili fuoriuscite di virus, di situazioni batteriologiche da laboratori incontrollate che poi si sarebbero diffuse. Versione ovviamente poi negata da ispettori che l'OMS avrebbe inviato, e qui critiche all'OMS, critiche alla difficoltà che questi ispettori avrebbero avuto nel cercare, vedere, valutare, essere aiutati e quindi poter dare una risposta chiara sulla genesi di questo virus. Ma ecco, al di là poi della risposta che credo non abbiamo capito perché la Cina ovviamente nega tutto da sempre in qualunque momento, accusa gli altri reciprocamente, gli Stati Uniti, la Cina, la comunità europea, la Cina e non ne sapremo mai nulla. Però ecco, tutti paventano questo scenario apocalittico, lo fa anche il Dipartimento di Stato americano, nei confronti di una Cina, ribadisco, ritenuta comunque maggiormente preparata a questo rispetto agli altri paesi della Terra. Grazie.